Oggi è partito il servizio di rifezione scolastica per i nidi e per le scuole comunali, come avevamo anticipato. Abbiamo avuto un po' di ritardo perché dovevamo assumere gli educatori da concorso, quindi ora siamo al completo con il personale e iniziamo a erogare il servizio. Entro lunedì si completerà, ma anche quelli che sono un po' più in ritardo andranno poi a regime. Per quanto riguarda le cellule librarie della scuola primaria e della scuola secondaria abbiamo fatto un accordo con i librai, cofirmato con l'assessore armato e grazie a questo accordo abbiamo avuto modo di velocizzare anche le procedure di pagamento. Già due settimane dopo l'inizio della scuola le famiglie erano in possesso di cellule librarie da poter utilizzare per i libri. I fondi disponibili sono aumentati, noi adesso già abbiamo erogato una tranche, circa un milione e otto di fondi utilizziamo.